Amici del convento vi proponiamo un momento particolare che stiamo proponendo da qualche mese i quadri della nostra Tatiana, l'angolo dell'arte ogni venerdì ecco qui la nostra artista con alcuni ragazzi interessati sta spiegando loro i suoi quadri, i temi dei suoi dipinti andiamo a ascoltare cosa ci racconta uno dei miei quadri che ho dipinto all'inizio della mia carriera ancora piccola perché comunque ho iniziato da 4 anni prima della pandemia e poi la mia arte si esplosa e voglio continuare, voglio proseguire perché è la mia vita qua si rappresenta in questo quadro oscuro con queste piccole bolle arancione la vita dell'oceano, del fondo dell'oceano infatti si intitola Abissi dell'oceano se guardate bene e pensate che comunque nell'oceano, nella profondità, nell'oscurità c'è la luce e qua possiamo dire anche il discorso della pandemia che è passata ormai adesso e qualcuno anche non si ricorda più perché era ancora piccolo qua c'è rappresentazione anche di qualcosa di oscurità di oscurità e nella oscurità troviamo anche la luce quindi rappresenta questo pensiero invece più avanti andiamo qua e utilizzo sempre la tecnica acrilico con l'utilizzo della foglia dorata e nella mia mente voleva sempre rappresentare un muro vecchio, antico da dove esce la luce, luce che rappresenta la vita quindi in questa opera vedo proprio presentazione della luce dall'oscurità sempre realizzato nell'inizio della mia carriera e quindi potrebbe essere che sono stata influenzata veramente da quel nostro periodo della pandemia invece questo proseguiamo più avanti è un quadro che è intitolato campo di grano la notte e qua ha poco da dire in senso che è un campo illuminato dalla luce della luna e quello è stato uno dei primi miei lavori e per me è molto significativo perché gli acrilici che ho utilizzato erano ancora acrilici vecchi del mio figlio quindi io i primi acrilici ancora non sono andata a comprare avevo uno al penello di mio ragazzo, di mio primo figlio e acrilici che ho trovato in casa e ho realizzato questo quadro da lì diciamo ho partito tutto e sono contentissima che si espongo a Brescia abbiamo una piccola galleria con un mio amico Aldo Leo e praticamente da questa settimana siamo disponibili per il pubblico e potete contattarci per qualsiasi informazione sul numero 393-777-3182 che sono io e il mio numero che dopo alle 4 di pomeriggio sono disponibili a rispondere alle vostre domande e venire ad aprire la galleria e la galleria si trova via Le Piave 28 barra B a Brescia vicino alla Gelateria Maracana vi ringrazio, venite a trovarci grazie grazie